Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo ora uno spazio che è assegnato agli interventi, al confronto aperto, ne abbiamo già alcuni indicati di scaletta, quindi pregherei alle persone che sono previste nel nostro ordine di lavoro, grazie di tanto qui al tavolo. Allora lasceremo la parola per primi, però inviterei anche da parte del pubblico a prepararsi per alcuni interventi, che abbiamo un'oretta di tempo, chiederei ai primi interventi di Stato della Torre delle 10 minuti in maniera a poter avere spazio per le interventi successivi. Quindi Isabella Ponelli, Guerra per Lucen, Sandro Pozzacchi per il Consorzio di Bonificazione dei Posti di Pisa e le grazie a Mamucci per il fila.